ciao a tutti oggi vediamo come fare un foro nel vetro qui abbiamo una bottiglia vuota prima di tutto la incidiamo con un tagliavetro il tagliavetro si basa sul far scorrere sul vetro una rotellina che va ad inciderlo ecco qui vediamo la rotellina e questa qua a destra invece oggi utilizzeremo questa punta si tratta di una punta lancia in carburo di tungsteno che farà il foro nella bottiglia prima passo con un pennellino e un po d'acqua per andare a raffreddare e lubrificare il punto dove andare a fare il foro occorre utilizzare un trapano con una velocità non troppo alta ecco che abbiamo perforato il vetro e occorre finire il foro per renderlo completamente liscio andiamo a completare il foro in modo che sia reso completamente liscio dove è stato fatto il foro non ci si taglia ecco qui ne facciamo un altro dall'altra parte della bottiglia per far vedere ancora come funziona si completa il foro ecco fatto non ci si taglia anche intorno a dove è stato forato il vetro vediamo anche un barattolo della marmellata dove c'è un foro perfettamente riuscito grazie a tutti vi saluto iscrivetevi al nostro canale se non l'avete ancora fatto elettronica didattica e visitate il sito elettronicadidattica.com grazie a tutti a presto ciao ciao